Il duca e la duchessa del Sussex dovranno spuntare le caselle minime per mantenere i loro legami reali, che sono fondamentali per il loro marchio. Meghan Markle e il principe Ferri sarebbero due cineasti in difficoltà se non avessero i loro legami con la famiglia reale, ha affermato un esperto di pubbliche relazioni. Secondo l'amministratore delegato di GoUp, Edward Coram James, l'unica valuta della coppia è il loro legame con i reali. Ha aggiunto che i Sussex devono ancora dimostrare di essere registi capaci e senza i loro legami reali non sarebbero stati presi sul serio a Hollywood. Coram James ha detto a Express, per far decollare le loro carriere embrionali e per guadagnare il tempo di cui hanno bisogno, le persone con cui hanno bisogno per poter lavorare e il sostegno finanziario e di distribuzione che avranno richiedono, devono rimanere reali, almeno per il momento. Li mantiene rilevanti, e, fa guadagnare loro tempo e fa affari. Oh, per dirla più schiettamente, se non fossero reali, a Hollywood non importerebbe. Sarebbero solo altri due registi in difficoltà persi in un oceano di registi in difficoltà. Ha aggiunto che l'elenco minimo indispensabile per garantire la loro rilevanza avrebbe partecipare o l'incoronazione in cima. L'esperto di pubbliche relazioni ha aggiunto. Se, il principe, Ferri non avesse partecipato o l'incoronazione, il suo fascino come membro della cerchia ristretta della famiglia reale, inizierebbe a svanire, e così anche le sue prospettive di carriera. Quindi, sebbene possa partecipare in parte per lealtà alla famiglia, anche durante i periodi di prova, sarà anche profondamente consapevole che anche la sua carriera, in misura scomoda, dipende da questo. Lo scorso dicembre, i Sussex hanno pubblicato la loro docuserie Netflix di sei episodi, intitolata semplicemente Ferri e Megan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.